Siamo qua con Giorgio Pedrollo, vicepresidente della Scaligera Basket, oggi è stato presentato Francesco Candussi, uno dei colpi più inseguiti del mercato della Tezenis 2018-2019. Vicepresidente, se ci può spiegare come è nata la trattativa, come si è sviluppata e come poi si è conclusa con la firma del giocatore qua a Verona. È nata dall'idea ancora dello scorso anno di cercare un centro vero e proprio, non qualcosa di similare nonostante avevamo dei giocatori italiani molto bravi nello scorso, ma anche una presenza, un corpo importante come è Francesco Candussi e con una futuribilità, cosa molto rara in Italia. È chiaro che era facile individuare in Francesco il giocatore ideale, ma non era altrettanto facile riuscire a portarlo a casa, anche perché credo che almeno l'80% dei club italiani lo inseguano. Il progetto è stato condiviso bene, lui l'ha sia appassionato come ci siamo appassionati noi, come si è appassionato sottoscritto e da lì è nata questa possibile idea di provare a fare un'offerta, perché pensavamo che non fosse nemmeno realizzabile all'inizio. La cosa è piaciuta e giorno dopo giorno ha cominciato a crescere e lui, proprio di sua volontà, ha deciso di venire a Verona. Ripeto, ringrazio anche il Presidente che ha fatto uno sforzo economico, ma poi aveva offerte più alte delle nostre, non è stata la parte economica a decidere, ma il progetto Verona. Altra domanda, lei ha parlato di futuribilità e un colpo quindi sia per il presente ma anche per il futuro della Tezenis. Certo, se parliamo di un centro che tante volte ha una maturità un po' più lenta degli altri giocatori di 24 anni, già dominante e determinante come Francesco, come l'anno scorso che viaggiava a 15 punti e 8 una rimbalza partita, parliamo veramente di qualcosa di molto futuribile e che mi auguro rimanga qui a Verona per tanti anni. Noi abbiamo due anni di contratto ma faremo di tutto per prolungarlo.